e allora tra poco arriva Feltri ma io vado avanti con gli opposti che non si attraggono unisco candidati che la pensano diversamente e se la cantano e se la suonano saluto l'ho semplicificato non vi piace? Saluto Gianfranco Librandi del Partito Democratico buonasera, buonasera a tutti e Gianmarco Centinaio della Lega, entrambi uscenti e si spera rientranti allora perché dicevo se la cantano e se la suonano? Perché non voglio intromettermi se non siete amici? Tantissimo, non nella politica, al di fuori della politica ci rispettiamo e ci stimiamo. Penso che poi le persone si debbano conoscere anche al di fuori della politica e di conseguenza anche se la pensano in un modo diverso però poi io rispetto anche chi la pensa in modo diverso da me. Allora, dicevo se la cantano e se la suonano perché vorrei che si confrontassero loro due e io intervengo solo. Fate così, venite qua davanti al monitor, so che è una posizione scomoda e non importa se avete le carte venite, fate la scala lì che non perdiamo candidati per strada, vi guardate in faccia e vi dite quel che volete, che è un modo carino anche per capire i vostri punti di vita. Prego, parte Librandi. Cosa devo fare? C'è il leghista, il suo nemico tipo. Ma diciamo che vedo nella Lega una grande energia, tante belle persone, anche perché ci lavoro assieme, ci vivo assieme, eccetera eccetera, però ci sono questi capi leghisti che hanno raccolto tanto consenso raccontando un sacco di bugie agli elettori e quindi questa cosa non va bene, perché dal mio punto di vista bisogna dire la verità ai cittadini, soprattutto sulle cose più importanti. Cioè uno mi può dire quali sono le bugie più importanti, non so, vediamo la flat tax, per esempio, che è il cavallo di battaglia della Lega in questo momento, uno dei cavalli di battaglia, più gli immigrati, più tante altre cose. Però la flat tax, cari cittadini, è una tassa che è stata inventata 30 anni fa, quindi niente di nuovo negli Stati Uniti perché volevano spingere l'imprenditoria e quindi dare un grande sgravio a chi avesse investito alla middle class. E adesso chi c'era? Chiediamoci chi ha la flat tax. Alla flat tax c'erano una trentina di paesi del mondo che se volete ve li leggo, per esempio il primo è la famosa Abkhazia, uno dice ma cos'è questo paese? E' un paese che tra l'altro è riconosciuto solo da pochi altri, comunque a prescindere da questo paese c'è la Bielorussia, la Russia, la Bolivia, tutte le isole dei Caraibi, diciamo non c'è una nazione tipo la Francia, la Germania, la Norvegia, la Finlandia, un paese diciamo civile. E cosa notiamo? Che in questi paesi il reddito pro capita è bassissimo, un diverso rispetto al nostro, ma cosa notiamo anche di più in questi paesi? Notiamo che c'è un'aspettativa di vita di 70 anni contro i nostri che sono di 85 anni, quindi già lì con questi indici, dopo andiamo avanti, vuol dire che c'è il bidone che ci vogliono tirare questi signori. Il bidone, il centinaio, prego, sempre rivolgendosi a Librandi. Sulla flat tax io ricordo anche per esempio che c'è la Taiwan, la flat tax, che è una delle nazioni che in questo momento si sta evolvendo di più rispetto ad altre, forse i dati che ha l'amico Librandi non sono aggiornati. Io sono stato a Taiwan a studiare la flat tax e per esempio a Taiwan c'è un'aspettativa di vita altissima, c'è un livello di scolarizzazione alto, c'è un livello di industrializzazione alto e di conseguenza è una delle nazioni emergenti di quella zona e per esempio sta funzionando e funziona bene. Che dire, io non penso che sia un pacco, nessuno ha mai detto che l'abbiamo inventata noi, anzi abbiamo semplicemente detto che l'idea che abbiamo è quella che in Italia bisognerebbe abbassare le tasse. Tutti ci dicono che la nostra proposta è una proposta che non è irrealizzabile, però poi quando vai a chiedere ai signori che hanno governato in questi anni, che invece in questo momento stanno dicendo che le tasse le vogliono diminuire e gli chiedi ma cosa hai fatto in questi anni? Cosa hai fatto in questi sette anni il Partito Democratico? Ha abbassato le tasse, oltre a dare gli 80 euro che servono, che va bene, che sono serviti, però poi alla fine non hanno abbassato niente, non hanno abbassato le tasse. Rispondetevi, rispondetevi, è un dialogo. Dobbiamo dialogare. Ma Taiwan, io che conosco benissimo perché ci lavoro con Taiwan, non mi risulta che abbia la flat tax perché ha diverse tasse, diciamo che ha una tassa preferenziale sulle aziende come c'è l'Italia perché l'IRES che abbiamo noi è uguale per tutti, è stata abbassata dal nostro governo dal 27% al 23%, quindi direi che è stato fatto, ti rispondo anche all'altra domanda che dice abbassate le tasse. Le nostre aziende hanno ricevuto un grande aiuto da questo governo, infatti l'economia sta andando molto meglio, gli indici, no ma non c'è da ridere, ci sono milioni di posti di lavoro di più, di precari, assolutamente no, assolutamente no perché il job sector non è un contratto per precari, è un contratto che io, lo faccio di lavoro questa cosa, quando finiscono i tre anni tutto lo devi tenere, a meno che il dipendente giustamente, a meno che dimostri che c'è una crisi, che ci sono delle situazioni particolari, quindi di precari, i precari ci sono con le vostre proposte sul lavoro che peraltro non ho visto nel vostro programma perché ho visto che anche lui aveva in mano il programma, anch'io me lo sono studiato bene, comunque per finire la storia di Taiwan, Taiwan è un paese che è uno spin off della Cina, un paese dove si sta diciamo inquadrati in maniera quasi dittatoriale, bisogna rispondere allo Stato in maniera forte a Taiwan, sì a Taiwan e quindi noi abbiamo delle attività a Taiwan, noi ci siamo andati con una delegazione parlamentare a Taiwan e di conseguenza non penso che i parlamentari della Repubblica Italiana vadano in delegazione in uno Stato quasi dittatoriale. Ascolta, ma il fatto che tu ci vuoi far diventare come Taiwan ci preoccupa tantissimo perché ti dico questo, a Taiwan la spesa per la sanità è 1000 dollari all'anno pro capite, invece c'è in Italia circa 4000, tu capisci che io non voglio fare cambio, no te lo dico io, io non voglio fare cambio con Taiwan, io voglio che il nostro reddito pro capite, la spesa per la sanità sia uguale alla Francia, sia uguale a Germania, però cittadini io ho in mano il loro programma, cioè loro vogliono sgravare, vogliono fare, vogliono regalare, cioè tra l'altro con la flat tax quelli agevolati sarebbero le persone come me o come Silvio Berlusconi, no certo, invece io dico che bisogna rinunciare quelli come noi e dare un po' di soldi di più ai poveri, però dico solo l'ultima cosa dopo, allora loro che sono così per il pop, sentite cosa scrivono qua, con l'entrata in vigore del nuovo sistema fiscale aumenteranno le sanzioni relative alle infedeltà fiscali, introduzioni di sanzioni amministrative che prevedono tra l'altro il ritiro della patente e anche del passaporto finale, cioè chi di noi per caso si dimentica di pagare la loro flat tax, si dice not flat tax, si dimentica, allora ci ritirano il passaporto, cioè vi rendete conto noi siamo in un paese libero, questi ci vogliono centinaio, noi siamo in un paese libero, è vero che siamo in un paese libero, cioè è scritto nel loro, è altrettanto vero che nel momento in cui io ti riduco le tasse e ti permetto ai cittadini, nel momento in cui io riduco le tasse, io comincio a avere paura di voi, ma le frustate sono previste, io ho paura di chi ha governato in questi sette anni riducendo gli italiani come ci stanno vedendo, ma cosa? L'Italia è un paese libero, liberissimo, tutti sono liberi di dire, ma la dimostrazione che ci sono i grillini e quelli che come voi che raccontano un sacco di balle e nessuno gli fa niente, la dimostrazione che per qualche anno ha governato Renzi e questo è quello che abbiamo sotto gli occhi di tutti, vediamo quello che avete fatto voi in Lombardia, che eravamo i primi nella sanità, adesso siamo in sesto, ha ragione, perdonami, hai ragione, parla tu, ma io faccio il ragionamento che nel momento in cui io ti abbasso le tasse, ti riduco le tasse, faccio sì che le tasse debbano essere pagate da tutti, nel momento in cui c'è qualcuno che si dimentica di pagare le tasse, è logico che questa persona deve essere punita. O non può pagare le tasse? No, non può, non può, come fa a non poter pagare le tasse nel momento in cui io riduco a una persona le tasse al 15%, allora mi dimostri, mi dimostri che tu non sei in grado di pagare le tasse, mi dimostri che sei in un momento di crisi, mi dimostri che la tua azienda, dopo che abbiamo ridotto ulteriormente le tasse, non può pagare le tasse, allora questo è un altro ragionamento, ma nel momento in cui ti dimentichi di pagare le tasse, lo Stato si ricorda che tu sei inadempiente e di conseguenza ti punisce e penso che sia giusto. Vorrei precisare una cosa, che la proposta al 15% è proprio una balla gigantesca, perché se controlliamo quante tasse pagano gli italiani e quanti sono le spese dell'azione pubblica, della spesa pubblica, facendo un conto viene fuori circa il 25%, quindi state proprio sparando una cifra, tanto per dire votate me che non vi faccio pagare niente, tanto il giorno dopo fatto è quello che volete, come avete sempre fatto, la vostra capacità economica l'abbiamo vista con... Chi è che non si ricorda le panzane dell'ex Presidente del Consiglio Renzi quando ricordava gli italiani, ricordava gli italiani, ricordava gli italiani, ha detto agli italiani che avrebbe fatto una riforma al mese, ha detto agli italiani che se avesse perso le elezioni avrebbe abbandonato la politica, la politica l'ha abbandonata? No, siamo ancora qui ad ascoltare il signor Renzi che ci racconta come vuole rispondere. Però non ha mai imbrogliato nessuno. No, non ha mai imbrogliato nessuno, ha imbrogliato gli italiani. Voi ci avete seppellito sotto i vostri miliardi delle quote latte imbrogliando tutti gli italiani. Ma noi non abbiamo imbrogliato nessuno, noi non abbiamo imbrogliato nessuno. Anche i soldi che dovete ritornare perché li avete usati in maniera impropria. I soldi che dobbiamo ritornare la magistratura, la magistratura ha già bloccato e ha già fatto quello che doveva fare, quindi abbiamo pagato. Un partito serio non ha bloccato, non deve essere bloccato di niente. Abbiamo pagato. Ricordiamo i diamanti della Tanzania. Ricordiamo il Partito Democratico, ricordiamo il Partito Democratico, ricordiamo Banca Etruria, ricordiamo la Monte dei Paschi, ricordiamo tutti gli indagati del Partito Democratico. Meno dei vostri. Vuoi parlare di Rizzi? Non lo so. Sono appena andato a Monza che ci sono 600 persone che stanno aspettando di risolvere i problemi creati dalla Lega. E sapete cosa fate? Voi neanche ci andate in quell'azienda lì. Va bene, voi siete capaci di sparare balle e poi di non mettere, e gli altri devono mettere a posto l'economia. Ricordo solamente, ma io non ho molto da replicare, ricordo solamente, chiedo solamente agli italiani, vi sentite più ricchi o più poveri dopo aver avuto i governi del Partito Democratico negli ultimi sette anni? Vi sentite meglio? Vi sentite più sicuri? Vi sentite con meno immigrazioni? Vi sentite più ricchi e più poveri? Se state meglio votate Partito Democratico. Se vi sentite meglio votate PD. Se invece non vi sentite meglio, forse bisogna cambiare le cose. Se la Lega, che l'ultima stupidaggine che ha fatto comprare la Voting Machine, 50 milioni nel cestino, solo così per un capriccio elettorale che non serve a niente, votate pure loro e vedremo cosa succede. Nel frattempo ci ritroviamo, che eravamo la prima regione d'Italia per la sanità, adesso andate a chiedere di fare un esame e poi vedete cosa succede, che aspettate sei mesi, nove mesi. Questa è la loro sanità, questa è la loro politica, quello che si propongono loro. Siamo la regione traino d'Italia, siamo una delle regioni più forti in Europa. Ma non per merito vostro. No, per merito del PD che non ha mai governato in regione Lombardia. O forse per merito di una signora che si chiama Lorenzin che ha tagliato la sanità, o forse per colpa di un governo che ha tagliato i fondi alle regioni. O forse del Partito Democratico che ci avete fatto una riforma costituzionale che voleva dettagliare. Le persone del sud, che voi avete sempre insultato per anni, le persone del sud sono il 40% dell'Italia. Che votano Lega? Ma non è detto. Che votano Lega? Votano Lega perché li imbesuite con le vostre balle. Quindi gli italiani sono imbesuiti. Quindi secondo te gli italiani sono imbesuiti? Ma io dico che se non venivano voi con le vostre... E rispetto nei pronti degli elettori. No, no, io ho massimo rispetto. Io dico che, certo, se a un certo punto in Italia c'è un problema emergenziale che adesso non c'è più degli immigrati e voi continuate con l'aiuto di alcune televisioni che peraltro non fanno il loro interesse perché da un lato sono calato i voti, sto parlando di Forza Italia, non capisco la loro strategia, per aiutare voi con le vostre frasi fatte. E cosa succede? Immigrati, allora addosso gli italiani, gli immigrati. Di immigrazione vorrei parlare, ci mancava, però l'avete tirata in ballo voi, nello specifico Librandi, vorrei parlare subito dopo la pubblicità in questo confronto che a me piace molto. Sembrate anche più dinamici in piedi, a tra poco. Mi piace molto. Allora, sempre Librandi del Partito Democratico e Centinaio della Lega, sempre lì a confrontarsi, ho preferito così che le robe ovattate, è immigrazione. Ne accennava Librandi, adesso non c'è più emergenza Librandi? Ma adesso c'è una situazione sotto controllo. Nel mondo c'è un'emergenza che va gestita con vari sistemi che tutti i partiti conoscono, solo che i governi precedenti li hanno trascurati questi sistemi, adesso parlano di piano marcia, di queste cose che noi diciamo da anni e soprattutto noi stiamo intervenendo da anni per far attivare l'economia in questi paesi in modo tale che alla fine queste persone rimangano là. Io per esempio conosco tante di queste persone che stanno facendo delle piccole attività, delle fattorie, delle vendite di piastrelle italiane, delle vendite di forni e del pane fatto con i forni italiani. Quindi con un po' di collaborazione con queste persone si frenerà questa situazione. Peraltro il ministro Miniti è stato molto bravo. Ho letto qui nel loro programma invece che loro per fermare l'immigrazione vogliono attivare la collaborazione con Putin e con le tribù della Libia. Quindi adesso tra un po' faremo amicizia anche con le tribù della Libia invece che con un governo stabile. Però questo lo facevo per provocare un po' il mio stimato collega e dico la immigrazione è un problema che ci ha dato molto fastidio, che ha dato fastidio agli italiani, però avete visto che l'abbiamo controllata, adesso siamo a un terzo di quello di prima e un po' di immigrazione, se avessimo un'ora di tempo per parlarne potremmo anche stabilire che ci serve. Centinaio, tocca a lei rispondere a quello che ha detto Librandi. Sono d'accordo con Librandi quando dice che bisogna collaborare con i paesi di origine, sono d'accordo quando dice che effettivamente ci sono delle belle realtà di collaborazione, di cooperazione internazionale e che negli ultimi anni c'è stato un incremento, su questo è vero. Però sono anche dell'idea che Minniti non ha fatto nient'altro che applicare e concretizzare le proposte che avevamo fatto noi in questo periodo quando eravamo all'opposizione, cioè tentare di velocizzare l'identificazione di queste persone perché è impossibile che queste persone debbano essere identificate in più di un anno e di conseguenza è una proposta che avevamo fatto insieme alla Lega e anche a parte del PD e Minniti. Ma noi vi ascoltiamo sempre. Su Minniti abbiamo detto in più di un'occasione che sono state fatte e dette determinate cose e sono state portate avanti determinate cose che avevamo concordato. La situazione è cambiata sotto questo punto di vista. La cosa che noi stiamo dicendo è che speriamo che il Ministro Minniti abbia concretizzato anche questa che nel momento in cui le persone sono identificate e sono identificate come persone che non hanno diritto a rimanere sul territorio nazionale vengano rimpatriate. Per noi questa è una cosa importante perché pensiamo che il problema immigrazione non sia un problema o gestione dell'immigrazione non sia un problema di destra, di sinistra, 5 stelle, sopra o sotto. Se le cose si riescono a fare, si riescono a fare insieme, Librandi e Centinaio potrebbero andare tranquillamente d'accordo. Siete pronti per entrare in un governo di larghe intese? Siete pronti per entrare in un governo dove come visto che vincerà il centro-destra e partiremo dentro anche Librandi. Grazie. Una cosa che le piace della Lega, perché comunque lei frequenta l'ambiente, viene invitato ai dibattiti delle feste, e Centinaio è una cosa che le piace del PD. Allora partiamo da Librandi perché Centinaio deve pensare. Io quando vado alla Lega sento un grande calore delle persone eccezionali, piccoli imprenditori, commercianti, mi trovo immediatamente a mio agio, è il calore della Lombardia, delle persone che sono abituate a lavorare, a dare, e quindi non mi piace tanto la Lega snaturata e qui non devo fare... Piedono quello che le piace. Quello che mi piace, no? E mi piacciono le persone come il mio collega Centinaio, che sono fortunato di avere un incontro con lui oggi. non mi piacciono le bugie che qualcun altro dice, lui ha detto delle verità e quindi è una forza importante per l'Italia e mi piacerebbe avere una Lega italiana moderata che andasse d'accordo con i partiti moderati, che sono anche il PD, dove io sono onorato di essere. Centinaio, la cosa che le piace del PD? La cosa che mi piace del PD è l'organizzazione, la militanza del PD perché comunque alla fine io conosco tanti, arrivo dalla provincia di Pavia, conosco tanti tesserati, simpatizzanti, iscritti del Partito Democratico che anche in questa campagna elettorale ci siamo confrontati e mi ricordano molto la militanza nel nostro partito. Gente che ci crede vuole portare a casa un risultato indipendentemente dal leader Matteo Renzi che l'ha un po' snaturato. La cosa che mi piace di Librandi è la schiettezza, il fatto che non si tira mai indietro nel momento in cui ci sono dei confronti e che è una persona che contrariamente a tanti politici che parlano, parlano ma senza aver fatto niente nella vita, è una persona che comunque al di fuori della politica si dà da fare. Dovevo fare una trasmissione in cui ve la davate di santa ragione e lo avete fatto politicamente però a differenza delle trasmissioni tradizionali viene fuori la stima di uno per l'altro, uno sta da una parte, uno sta dalla parte opposta ed è bello, credo anche come messaggio per chi sta a casa che poi sceglierà una parte, l'altra o le altre mille parti che ci sono, è bello il messaggio di gente che comunque si rispetta perché questo sta mancando nei dibattiti televisivi, nelle televisioni. 30 secondi a Librandi del PD e 30 secondi a Centinaio della Lega. Io in questi 30 secondi voglio chiedere ai cittadini soprattutto della Lombardia di concentrarsi e andare a vedere chi sono i candidati soprattutto per la regione, il candidato che ci propone la Lega è un candidato bravo, serio ma stanco, non possiamo avere questo candidato per la nostra Lombardia che è il motore dell'Europa, anzi chiedo ai cittadini di centrodestra di votare per Gori che è una persona seria, noi dobbiamo votare le persone, non in che partito sono in quel momento lì. Ma che si limiti a chiedere a quelli di centrodestra di votare per Gori e non a quelli di Gori di votare per Fontana, se no poi c'è una battuta, anche perché non si potrebbero fare appelli al voto e allora ci metto una battuta, ma non importa, ma ci sta, la legge la cambierete, chi va su la cambia. Centinaio. In questo momento noi abbiamo un programma importante, un programma sia nazionale che regionale, un programma che vuole riportare le persone, le famiglie, le imprese al centro dell'attenzione e della politica. Vogliamo cambiare, perché vogliamo cambiare rispetto a tutto quello che abbiamo dovuto subire in tutti questi anni e vogliamo sicuramente una Lombardia migliore perché ci sono delle cose da modificare, nessuno dice che siamo stati perfetti, però a livello nazionale bisogna cambiare, assolutamente. Va bene, allora la stretta di mano non serve neanche che ve la siete data più volte, però ve la date, benissimo. Grazie a Centinaio della Lega, a Librandi del Partito Democratico, vincano i migliori, vinca il migliore, basta che qualcuno vinca. Noi torniamo con Vittorio Feltri, che sul chi vince e che accrocchio farà alla sua idea, subito dopo la pubblicità. Noi torniamo con Vittorio Feltri. Feltri. Noi torniamo con Vittorio 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 Feltri.